San Felice, la consigliera regionale del Movimento 5 Stelle Giulia Gibertoni ha presentato un'interpellanza alla Giunta sul problema relativo alla montagna di Amianto accumulato da anni sotto un tendone. Una vicenda riporta la pentastellata che risale al 2012 e che a seguito di una interpellanza ha visto emergere una serie di documenti che lasciano supporre un comportamento anomalo da parte di alcuni funzionari pubblici. Da qui l'iniziativa della Gibertoni che chiede all'esecutivo regionale come sia possibile e agli organi competenti a fare chiarezza sulla vicenda.